Hello and welcome carissimi followers di CR8 Sono qui per dirvi che ho appena concluso un live stream su Twitch Anche per ovviare soprattutto a quella che si è stata la mancanza di video sul canale Specialmente dello special che avevo con esso ma purtroppo per svariati impegni non mi è stato possibile portarlo a termine Quindi avete quest'altro special giallo lì che purtroppo non caricherò su youtube per il semplice motivo che ho già parecchi errone di copyright Non mi ricordo cos'era o qualche video e cercherò comunque di trovare una soluzione a quello Per quello dello special ho parlato già a sufficienza della sua sorte diciamo appunto nello streaming fatto in data odierna Ho parlato anche di molte altre cose quindi Se volete seguirlo e volete anche parlarne con dei commenti sotto questo video Sarebbe molto aggradita un po' la discussione Che mi verrebbe fuori Quindi che dire Vi lascio il video e vi metto il link in descrizione sono varie parti perchè La live è crashata un paio di volte Ignorate i video di Destiny perchè quella è una delle prove per vedere se tessimi fosse trasmesso ma il gioco è diciamo always online Quindi la mia linea non mi permette al momento di fare degli streaming che non siano di giochi offline Quindi link in descrizione E noi ci vediamo si spera presto con Project Gladiator Per mangiare informazioni sul live stream trasmesso su Twitch Grazie ancora dell'ascolto e buon divertimento con il live stream e il proseguimento della programmazione qui sul canale Yes se qualcuno può farmi sapere se ci sono stati problemi con questa missione in generale mi sarebbe molto aggredito